Clic! Ben ritrovati i miei cari avventori del Lugiona Bar Calcio. Ho appena visto la conferenza pre-match di Bologna-Lazio e purtroppo ho constatato come Sinisha Mijailovic sia tornato un attimo su una falsariga che tanto non mi piace. Ossia, stasera ho visto, stasera perché io l'ho visionato adesso ma lui ha parlato ovviamente ai microfoni oggi, oggi pomeriggio, nel primo pomeriggio penso e ho visto un Mijailovic veramente con poca voglia, specialmente a inizio conferenza di essere lì dove fosse, forse vorrebbe già essere al teatro Ariston e presto sarà accontentato. L'ho visto scorbutico, ombroso e che va sempre, va sempre, è tornato a parlare di alibi è tornato a favellare la famosa parola infortuni, sfortuna, fortuna e quant'altro cose che io avrei credito non sentirle più e lasciarle al 2020 e invece le ha rispolverate. Chissà che non siano i prodromi di Mijailovic che verrà da qui a maggio. Staremo a vedere. Prima di iniziare però a vedere esattamente cosa gli hanno chiesto i giornalisti e quali sono state le risposte di Mijailovic, vi invito i miei cari eventori se non l'avete già fatto e sarebbe veramente molto grave tasto rosso, clic, iscriviti al canale del Luigiona Barcaccio condividi con tutti i tuoi amici di Fede Rossoblu il canale e lascia sempre un mi piacino ai video del Luigiona Barcaccio non fare il taccagno e l'avaro. Allora la conferenza parte con una domanda di un giornalista che chiede a Mijailovic come stiano Tomiasu e Dykes due secondi di silenzio da parte di Sinisa per poi dire in maniera veramente antipatica diciamolo, questa domanda la devi chiedere ai medici e non devi farla a me quindi se questo è l'inizio di quello che appunto doveva essere Mijailovic in conferenza diciamo che non ha iniziato nel migliore dei modi e maldispone chi ascolta, tipo io pronti via ero anche diciamo contento di sentire che cosa potesse aver detto il nostro allenatore sentirlo così dopo il primo minuto, già dire quelle quattro parole in croce in quella maniera mi ha già fatto sobollire veramente i maroni quindi mi ha già messo nella modalità smaronata per ascoltarlo quindi se questo è il potere di Sinisa se questo è il modo di caricare i ragazzi non lo so, ok, non lo so se, perché deve essere ombroso, ok in conferenza stampa, ma potremmo dire tanti altri perché, ok che adesso non voglio tornare a parlare di cose antipatiche che sono successe ma ci siamo capiti, insomma io direi che Sinisa Mijailovic possa avere almeno due milioni due milioni di buoni motivi per essere molto contento di dove sia, ok che forse è anche troppo che forse è anche troppo ambizioso per Mijailovic essere dov'è ma anche qua, ragazzi, non lo dico io lo dice la carriera d'allenatore di Sinisa Mijailovic ci dovrebbe leccare i gomiti sperando che non siano così come quelli dell'Uisona se no, eh, si lecca direttamente le palle del gomito, ok bene, allora che cosa hanno chiesto? delle domande a cui ha risposto, ovviamente perché questa non ha risposto, ok dobbiamo chiedere al medico del Bologna magari che Sinisa Mijailovic ci porti il medico del Bologna in conferenza stampa forse riusciremo ad avere molti perché riguardo a determinate domande allora, gli hanno chiesto che cosa dobbiamo fare per scardinare la difesa della Lazio e in sostanza anche qua dice le stesse cose dobbiamo fare quello che sappiamo fare le prestazioni ci sono sempre state dobbiamo giocare come abbiamo giocato all'andata con un pizzico di fortuna in più dice e se facciamo questo con la fortuna dalla nostra ecco che possiamo uscire con qualcosa di buono dalla sfida di domani non so va bene non essere diciamo informativi nel senso che nessuno si aspetti certamente che ci venga a dire quali sono le scelte tecnico-tattiche per cercare appunto di avere la meglio contro la squadra di Simoninzaghi però insomma un minimo un minimo in più riguardo alle solite alle solite stringhe di frasi che è abituato ormai a fare che sembra che vada in loop e che metta l'automatico praticamente potrei andarci io a fare le interviste pre-match che più o meno è più o meno dire le stesse cose sapendo che cosa risponderebbe Mia Elvich poi sottolineo sottolineo una domanda che è stata fatta sulla mediana dove chiedono se potrebbe essere riproposta il duo Dominguez-Svamberg con Scouten inizialmente in panchina dicendo il giornalista a me non so te Mia Elvich gli dice mi sono molto piaciuti per quel poco che hanno giocato e Mia Elvich fa capire che anche a lui siano molto piaciuti e facendo un attimo intendere non dicendolo ovviamente ma lasciando trappelare quasi nell'indirizzo di Scouten che se anche lui non si dia una svegliata presto può appunto incominciare ad assaggiare la panchina così come è stato fatto per altri giocatori insomma per Orsolini per Barrow ok per Dominguez mi ricordo ho avuto anche in passato per Dominguez parole insomma che non siano proprio chissà di quale spessore è il modo di caricare di Mielvich questo è il modo di caricare di Mielvich cioè cercare di mettere in discussione e pungolare il giocatore di turno quindi adesso è il momento di Scouten ok potrebbe essere arrivato il momento di Scouten fino a due settimane fa era la lavatrice adesso deve essersi guastata ok dobbiamo chiamare il tecnico poi gli chiedono domande sul VAR che cosa ne pensa dopo ormai anni in cui è in rodaggio come mai appunto secondo Mielvich ci siano ancora determinati errori e lui e lui dice in poche parole che fa parte del calcio ragazzi fa parte del calcio io per lì mi posso arrabbiare mi arrabbio ma poi so che non lo fanno in mala fede dice Mielvich tutti possono sbagliare e aggiunge perciò quando si chiede scusa dice e l'hanno fatto a sentire lui che appunto hanno chiesto scusa dicendo di avere sbagliato aggiunge che cosa vuoi fare di più e secondo me è anche lascia intendere qualcosa riguardo la scorsa settimana quando c'era un pullman Mielovich hai chiesto scusa ok gli abiti stiamo parlando degli abiti gli abiti hanno chiesto scusa ok quindi che cosa vuoi dire cercheremo di essere più fortunati la prossima volta dice ecco che ritorna sempre la fortuna la fortuna speriamo di essere fortunati poi gli chiedono se abbia dei dubbi riguardo a quando in futuro chissà quando verranno riaperti gli stadi se la gente avrà timore di tornare allo stadio non tanto gli ultrassi gli chiedono quanto più il pubblico medio diciamo il pubblico gli spettatori gli spettatori dicono da distinti e da tribune secondo Mielovic il problema non si pone perché ha citato l'iperbole del tu ci vai al ristorante se riapre quindi è più o meno la stessa cosa e quindi secondo Mielovic non ci saranno problemi di alcun tipo riguardo a questo chiedono come abbia visto in allenamenti i ragazzi e lui dice bene ma c'è ancora una giornata davanti quindi tutto può succedere ricordando appunto le famose parole da Leone che avrebbe citato davanti alla squadra nel pre Benevento Bologna nel pre Benevento Bologna nel pre Bologna Benevento e dicendo che cosa aveva detto Bigone vi ricordate che cosa gli avevo risposto riguardo a quello che aveva detto Bigone soffermandosi sul fatto che Bigone gli avesse si fosse congratulato con Mielovic per aver fatto nel pre Bologna Benevento un discorso che l'aveva talmente gasato lo stesso Riccardo Bigone che aveva detto a Mielovic mister io stesso sono pronto per scendere in campo e Mielovic avrebbe detto calmino Bigone calmino che quando è così gatta ci cova e sento già puzza di bruciato e di fatti dice e di fatti che cosa è successo dicendo una bellissima frase che dice magari mi sbaglio però è difficile che io mi sbagli se questo non è un uomo tutto d'un pezzo siamo davanti ad un'altra divinità non peraltro a Sanremo hanno chiamato la divinità Zlatan Ibrahimovic a questo punto nomino divino anche Sinischa Mikhailovic quindi poi c'è tutta un discorso che fa sugli arbitri Osanno Orsato e diciamo decanta la sua voglia di cercare di parlare con l'allenatore che va a chiedere delle cose mentre condanna invece quegli arbitri che alla prima diatriba che ci possa essere dal campo tirano fuori i cartellini insomma in sostanza è questo altro non dice sulla partita di domani perché sapete che le conferenze di Mialovic sono per lo più durano di media 25 minuti dove 5 minuti si parla della partita e gli altri 20 si parla di accessori connessi e annessi ok accessori va bene accessori pronostico domani di Bologna Lazio allora la Lazio ha giocato in Champions League ha perso malamente io penso che non vorranno sbagliare due partite dietrofile domani sono un po' negativo sono sincero domani secondo me si perde domani secondo me si perde la Lazio non sbaglierà la partita temo purtroppo e e niente io dico che domani perdiamo perdiamo 1 a 3 secondo me perdiamo 1 a 3 il nostro gollo fa chi lo può fare chi lo può fare chi lo facciamo fare un gollo facciamo fare a Svanberg magari su rigore ok ora mi cari avventori fatemi sapere i vostri pronostici per domani fatemi sapere marcatori del solo Bologna risultato esatto attivate campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui all'Ugione a Barcalcio dei nuovi video e noi ci sentiamo alle prossime chiacchere da bar